Comunque adesso cambiamo completamente argomento perché, tinto, si sa, la RAI è un servizio pubblico ma con il vostro permesso farei un'eccezione perché c'è un caso disperato di ineleganza pura Dici? Sì, dico Ma Lorenzo io? No, sto parlando di tinto Ecco perché tu adesso prendi un cartoncino, una penna, prendi appunti perché io ho mandato in missione la nostra Wow, Bianca Luna Santoro, guarda un po' dove, solo per te Wow Sì, wow Firenze accende i riflettori sulla moda Dalla Fortezza da Basso vai in onda uno degli eventi più importanti dedicati alla moda maschile contemporanea Cinque percorsi differenti che raccontano le diverse anime del menswear Tinto per la cronaca significa abbigliamento maschile Campe! Oggi sono qui per scoprire insieme a voi le collezioni Primavera e Estate 2023 per l'uomo e scovare tutti i nuovi trend Tinto, prendi nota, hai più di un anno per rifarti l'armadio Andiamo Ciao Bianca, ci colleghiamo proprio con lei, ma ci sono speranze per il look del nostro Tinto e che cosa ci raccontano le nuove collezioni Uomo 2023? Bianca! Bianca, buongiorno! Wow! Eccola da Firenze, che bella città, io intanto scrivo Che carino Tinto, Bianca! Ragazzi, Roberta, Tinto, mi sentite? Benissimo Bianca, ma che piacere oggi! Ciao Bianca! Siamo in diretta dal Pitti, un evento che una fashion lover come me non si poteva certo perdere, no? No, assolutamente no Bianca, raccontaci tutto Assolutamente no Qui si respira eleganza, stile, quello che Tinto non ha e quindi ho una missione di trovare il guardaroba perfetto per dare una sistemata a questo ragazzo Sì! Allora abbiamo qui Giuseppe Ciao, un piacere! Giuseppe, qual è il capo chic per antonomasia per un uomo? Per me è il doppio petto, tipo, posso vedere, un classico doppio petto italiano Meraviglioso, meraviglioso Il doppio petto sartoriale Sartoriale, fatto a mano da massi sarti puliesi Chiamato anche blazer, molto molto di moda per l'uomo e per la donna La classica giacca blu che si usa sempre, che tutti ci hanno Che dite ragazzi, vi piace Tinto? Mi piace, l'unica cosa, Bianca, io il blazer lo prenderei solo blu Infatti si chiama blazer, credo per quello e non nero perché il nero attira le zanzare No, ma non ce lo vedo proprio col doppio petto Tinto Andiamo avanti Bianca, non lo so, non lo so, ancora non sono cominciata Dici andiamo avanti? Sì Roby, andiamo avanti però permettimi di indossarlo io perché io lo trovo super chic Perfetto per te infatti, Bianca Tutto in diretta, che bellezza, dal Pitti di Firenze Questo è unisex perché lo può portare una donna Grazie, con i 50 gradi di Firenze è perfetto Ti sta molto bene, ti sta molto bene ma tu puoi indossare tutto Ma il problema è Tinto, Bianca, è quella la missione Bianca, eh ragazzi Grazie, ma il gessato lo amo da morire Ma aspettate, vedo un colore, vedo qualcosa forse di più adatto per Tinto in effetti Vediamo Giorgio, eccoci qua, come stai? Bene, bene Cosa rappresenta il Pitti per te? È un'ottima occasione di sviluppo, di crescita Meraviglioso, finalmente si torna Finalmente si torna, sono 34 edizioni che ho partecipato al Pitti, quindi sono molto orgoglioso di essere qui al Pitti Senti, vediamo un attimo qui questi costumi Tinto, che ne pensi? Guarda qua, guarda qua, abbiamo tutti i colori Sì sì, sono belli colorati, ma c'è un colore da uomo, cara Bianca, che va per la maggiore per questa estate 2022? Bella domanda, allora io direi di chiedere a Giorgio Giorgio, sono elegantissima per te, ma dimmi un attimo, colori dell'estate 2022 e anche 2023? Allora, noi abbiamo pensato per la verità quest'anno di inserire colori molto forti, quindi inserire dei disegni geometrici e dei colori divaci, anche fluo E ci sono qua, diciamo la dimostrazione, anche fluo Sia sui costumi, sia sulle polo Bellissimo, perfetto, perfetto per Tinto, grazie Giorgio A presto, andiamo, qui abbiamo già trovato tantissime cose Che ne dici? Roberta, ti piacciono queste cose che ho trovato per il nostro Tinto? Sì, sì, Bianca, sì, non sono ancora convintissima, però ci possiamo lavorare, possiamo dire così, Bianca? Ci lavoriamo, io ci penso Hai bisogno di un accessorio, un accessorio chic, tre chic, giusto? Sì, tipo, non lo so, una cravatta? Forse la cravatta? Eh Una cosa che Tinto non ha mai indossato in vita sua, nemmeno per sbaglio Secondo me no La laurea Ecco perché vuole proprio una cravatta Abbiamo un'ampia scelta di cravate Allora Bianca, scegli questa cravatta per Tinto Tutti i tipi e il nostro carissimo Andrea Mi fido di te e noi ci rivediamo domani, Bianca Come stai? Bene, grazie, tutto bene Raccontami delle cravate Cravate è un... è il nostro mondo È il giù È il mio mondo È il mio mondo È da 40 anni che produciamo questo articolo E mai come adesso è di tendenza Se si interpreta la cravatta non nel suo mondo formale Ma in un mondo un pochettino più giocoso, più nuovo, più colorato Dove magari si gioca con tipologie di tessuti che vanno oltre la solita seta Magari con delle sete lavate, con delle fantasie un pochettino più, diciamo, contemporanee E con degli effetti più particolari Bianca, abbiamo preso nota, guarda, io ho scritto proprio tutto, queste nuove tendenze dal Pitti Sì, guarda, veramente ho fatto il compito, grazie a Bianca Luna Ecco, vediamo Guarda, guarda, ha preso proprio... L'avevo detto che era senza speranza Non c'è speranza, niente, il nostro tinto non vuole proprio imparare Speriamo almeno abbia preso nota la nostra Federica de Denaro sul suo taccuino Cambiamo, cambiamo, grazie Bianca Luna